Buongiorno 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 la porta buongiorno buongiorno si sente perfettamente funzionante buon lavoro grazie il direttore della terapia intensiva e il coordinatore buon lavoro grazie buon lavoro se viene qui in francamente positivo viene da una valutazione fatta a domicilio in cui si concorda la necessità di essere osservato cosa è molto probabile se è già un avvento positivo altrimenti ci sono pazienti che vengono decollegate perché la mente non si è